bella ragazzi allora questo è un video che è come allora ho promesso altra volta col video del portiere che alla fine mi è scelto che ho fatto del video stavolta l'attaccante che ci capita e ci andiamo a vedere un video con la like e il prossimo episodio del ruoto del centrocampista finché poi io finisco che sia Ronaldo subito poi porterò un'altra serie dei giochi tipo vabbè poi faccio vedere ok non prenderò un video di cristiano ronaldo ma troppo lungo anche perché poi scriviamo però c'è reset ovviamente trovo oggi speriamo perché altrimenti c'è reset un video eh vabbè questo è troppo eccolo 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 ti ho trovato bene cinque minuti cinque minuti alla fine del video prendete e te la fai e ammettete però se io comunque non c'è troppo questo se questo video arriva a un po' di esercizioni è molto troppo potente portare l'annuncio del cazzo vedo se ho portato bene solo che però dopo ecco 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 dai Ah, qua bene Da qui? E' perché è apparato Qu'è un'altra? Qu'è un'altra? 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 ma lo aumenta i potenziali no ma io pure l'armadritto è quella più che io volevo l'altra però è che l'armadritto non è io Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì.